Progetto di vettura sport di Johnny Dark Ho sempre sognato di poter costruire una vettura di questa specie Voglio sapere cosa prepari per la corsa da una frontiera all'anno Non so di che si tratta Voglio quei disegni sulla vettura sport, subito! Vi invito a bere al successo della X15 La macchina sport più veloce La più bella di tutte La rionfatrice Hai noti, le pareti del cilindro sono troppo lunghe Quella macchina deve riprendere la corsa Bolide Rosso, martedì alle 20.55 Grazie a tutti